Nonostante la giovane Carisi sia scomparsa da oltre 20 anni, di lei se ne è continuato a parlare visto che non è mai stato confermato che effettivamente la donna sia morta suicida gettandosi nelle acque del Mississippi. È ancora mistero quindi sulla scomparsa della primogenita di Albano Carisi e Romina Power, ovvero la bellissima Elenia. Sono tanti gli indizi che si sono susseguiti in questi 27 anni tra dichiarazioni di amici intercettazioni e parenti che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto e cercato quindi di dare una spiegazione alla scomparsa della donna. Una cosa però è certa, ovvero che Romina continua a sostenere che la sua primogenita sia ancora viva. La mamma non ha mai pensato che effettivamente la figlia possa essere morta gettandosi nelle acque gelide del Mississippi e continua a sperare che un giorno possa riabbracciarla. Anche il fratello Iari è convinto che la sorella possa essere ancora viva. Proprio in queste ore sembra che Romina abbia pubblicato uno scatto sui social e in molti hanno chiesto delle spiegazioni. Ilenia Carisi, la primogenita di Albano e Romina scomparsa. Sono tante le ipotesi dietro la scomparsa della primogenita di Albano e Romina Power. A distanza di tanti anni si sta cercando ancora di dare una risposta a questa misteriosa scomparsa di Ilenia. Nelle scorse ore proprio Romina Power ha pubblicato sui social una fotografia che in qualche modo ha rievocato il ricordo di due grandi assenze in questo esatto momento. Si tratta di una fotografia che ritrae due bambine che si tengono per mano e una è proprio Elenia Carisi, mentre l'altra è la piccola Clarissa un'amichetta di infanzia e figlia di detto Mariano, il compositore è testimone di Nozze di Albano e Romina, che è recentemente scomparso. Questo è uno scatto davvero molto dolce che omaggia il compositore di grandi successi della musica italiana che come abbiamo detto è scomparso nelle scorse ore, molto probabilmente a causa del coronavirus. Questa foto però ricorda anche Elenia, quando ancora era molto piccola ed era insieme alla sua famiglia. Questa foto è stata pubblicata da Romina Power proprio poche ore fa sul suo profilo social. Si tratta di una fotografia davvero molto importante per l'artista statunitense che racchiude due aspetti molto importanti. La copertina del primo album di quella che era la nostra etichetta discografica, Libra. A sinistra nella foto Clarissa, la figlia di detto Mariano, a destra, Elenia. La foto l'ho scattata io, ha scritto Romina. La foto l'ho scattata io, ha scritto Romina. La foto l'ho scattata io, ha scritto Romina. Ciao! 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 Grazie a tutti.